Sarei per i volentieri Chi si è scherzo può? Grazie Si preparano per una categoria almeno 40 kilocalli Giorgiardi, Matteo, Salvadieto, Riccardo Si preparano per il facciore femminile 27 Zaniponi, Elisa, Ricordi, Federica Vince Zanichelli, Matteo e si classifica al primo posto la categoria Libertà Vince Ciugli, Abrella Vince Guglielmardo, Levento Il capo di Milano li diamo con Baragancarlo, il capo di Milano Grazie